Ed ora arriva lui, un ospite eccezionale, cantante, cantautore, musicista, nella fattispecie batterista, addirittura scrittore, ha scritto già diversi libri, uno sulla squadra del Torino, è un piacere ospitare Valerio Liboni, se questo non è amore. Se questo non è amore, allora cos'è, se sono solo parole, allora perché, perché ti aspetto in questa stanza, che non arrivi mai, mi metto addosso alla tua essenza, mi sembra che ci sei. Se questo non è amore, amore cos'è, che fa così rumore fuori e dentro di me, E non lo so fermare, non mi abbandona mai, dimmelo tu, dimmi se lo sai. Amore mio, vorrei imparare il nostro filo e più, amore mio. Amore mio, se c'è una strada io la troverò, amore mio. Al posto tuo, saprei difendermi dicendo anch'io, al posto tuo. Al posto mio, vorrei vederti supplicare Dio, al posto mio. E' da aspettarti come sempre, e come sempre, vederti andare via, e inseguire una storia che forse in fondo è solamente mia, qui dentro questa stanza, che non passa il tempo mai, mi sento addosso alla tua assenza, anche quando ci sei. Amore mio, vorrei imparare il nostro filo e più, amore mio. Al posto mio, se c'è una strada io la troverò, amore mio. Al posto mio, saprei difendermi dicendo anch'io, al posto mio. Al posto mio, vorrei vederti supplicare Dio, al posto mio. Al posto mio, vorrei vederti supplicare Dio, al posto mio. Al posto mio, vorrei vederti supplicare Dio, al posto mio. Il posto è un posto favoloso che tu hai scritto. Scusate gli occhiali, ma ora fa dole terribili a due occhi e sembrano due meloni. Che sì. E quindi mi sono messo questi occhiali. La tua ironia.